Musica Qui sembra di stare a San Nicola, è emozionantissimo, grazie veramente, è fantastico. Centinaia di tifosi in festa hanno inondato Piazza del Ferrarese per salutare squadra, staff tecnico e dirigenza della propria squadra del cuore. La SSC Paris si presenta alla città e lo fa in grande stile e con tanto di sorpresa finale. Il ritorno di Ciccio Brienza, che appese le scarpe al chiodo, ha accettato l'offerta del presidente Luigi De Laurentiis di diventare osservatore e brand ambassador del club bianco-rosso. Solo grazie, è un'emozione incredibile, un'emozione che ho provato con voi in questi tre anni indescriviti. Ricordo quando sono arrivato e giustamente intorno a me c'era scetticismo perché arrivavo a 37 anni e pensavate che ero venuto a prendere la pensione, ma vi ho dimostrato con i fatti che non è stato così. Ora, per me questi mesi di silenzio è stata dura. Per me c'è un cambiamento che è come tutti del resto che fanno questo lavoro dopo più di 20 anni. Carico ed entusiasta, il numero uno della SSC Bari ha parlato del campionato appena iniziato e ha invitato ancora una volta i tifosi a sostenere in tanti la squadra durante questo difficile cammino, che domenica vedrà i bianco-rossi impegnati contro la Viterbese nella prima al San Nicola. So che tutti si aspettano di vincere ogni domenica, ma ogni domenica sarà durissima. Ma proprio per questo noi abbiamo investito in questi giocatori fantastici, quindi abbiamo confermato l'impegno che abbiamo preso un anno fa. Noi ci crediamo, amiamo questa città, tutti i giocatori sono motivatissimi. Domenica ci aspetta la prima in casa, non c'è dubbio, il San Nicola sarà di grande aiuto per tutti noi e noi vi aspettiamo in tanti e questo è fondamentale.